benvenuti a punto esclamativo il programma di approfondimento per gli abbonati di loft della piattaforma loft andate in edicola a comprare il fatto quotidiano si può andare in edicola come sapete se non potete andare comprate l'edizione digitale c'è un abbonamento speciale tre mesi 19 euro e 99 poco più di 5 caffè al mese e pensate con questo abbonamento potrete vedere fino al 31 maggio tutti i programmi della piattaforma loft dove ci sono tantissimi reportage inchieste format antonio padellaro marco travaglio marco lillo andrea scanzi peter gomez insomma le firme più prestigiose e non solo del fatto quotidiano nei loro format televisivi quindi un'occasione unica oggi per approfondire il tema naturalmente l'unico tema di cui si parla in questi giorni il coronavirus il maledetto coronavirus siamo in collegamento con il direttore del fatto quotidiano marco travaglio ciao marco ciao buonasera e con l'ex direttore del fatto quotidiano oggi editorialista antonio padellaro ciao antonio buonasera ciao luca allora da ieri insomma un piccolissimo spiraglio di luce sembra essere arrivato sul nostro orizzonte i contagi stanno un po rallentando speriamo che si consolidi questo dato e di oggi la notizia che è positivo al coronavirus guido bertolaso le olimpiadi di tocchio non saranno più 2020 ma saranno 2021 parto da antonio a che punto siamo forse serve ancora una stretta da parte del governo o per ora le i provvedimenti vanno bene ma non saprei dire penso che se vi ricordate quel film il film di woody allen basta che funzioni no ecco basta stato woody allen è in di attualità in questo momento ma il titolo mi sembra che possa essere benissimo ci possa servire per per capire bene che dove siamo perché per ora ha funzionato c'è poco da fare ha funzionato perché ce lo riconoscono tutti tutti i paesi che prima facevano finta di niente dagli stati uniti all'inghilterra alla francia alla spagna adesso sono in qualche modo costretti a copiare il modello italiano il modello italiano hai ragione luca nel dire prudenza prudenza sui dati perché non si può ancora non si è consolidato nulla quello spiraglio l'abbiamo visto ma dobbiamo aspettare ancora parecchi giorni prima che diventi una una vera luce no all'orizzonte detto questo mi sembra che sia la strada giusta anche perché se qualcuno vuole sostenere che non era strada giusta ci spieghi quale doveva essere la strada giusta mi sembra che sia il governo italiano abbia fatto una cosa che fu che sta funzionando nella lotta al coronavirus ecco marco antonio giustamente solleva chi sa qual è la formula giusta lo dica però le opposizioni che ieri si sono incontrate col premier conte all'uscita ci sono state luce d'ombre le ombre sono quelle che dice finalmente siamo stati ricevuti ma la stretta non è ancora sufficiente secondo te ma intanto le opposizioni sono state ricevute già tre volte durante questa crisi del coronavirus quindi non si capisce bene di che cosa parli non fermo restando che poi le opposizioni hanno il dovere di opporsi se si opponessero proponendo alternative invece di continuare a dire come un mantra non basta non basta non basta non basta cosa cosa dovremmo chiudere gli studi degli avvocati come chiede il presidente della regione lombardia avvocato fontana e poi se arrestano qualcuno magari anche per avere violato le prescrizioni che essi stessi hanno imposto insieme al governo chi lo difende visto che ogni indagato e ogni arrestato e ogni processato ha diritto alla difesa cioè io sento molto per molta pretestuosità molta strumentalità in certi attacchi per non parlare di quelli che hanno criticato conte per una diretta facebook che abbiamo scoperto non essere una diretta facebook ma una normale comunicazione del presidente del consiglio dai canali ufficiali di palazzo chigi a cui poi si sono attaccate le televisioni che hanno voluto trasmetterlo la sua pagina facebook il canale youtube della presidenza del consiglio cioè per due giorni siamo andati avanti a parlare del nulla io sono un criticone ma ogni volta che faccio una critica la motivo vado sul merito e se ho qualche idea propongo qualche alternativa per esempio penso dovendo criticare per mestiere le cose che non vanno che la gestione anzi la non gestione della regione lombardia sia imbarazzante mentre invece questo non è minimamente prevenzione c'è una gestione del veneto sono due giunte dello stesso colore una una strategia quella del tampone a tappeto per acchiappare il maggior numero possibile di positivi ed avere quindi un'idea del fenomeno ed evitare che un sacco di asintomatici vadano in giro inconsapevoli sono i più pericolosi e certo a contagiare altre persone mentre la lombardia non fa il tampone nemmeno ai sintomatici